36 famiglie sgomberate dai rispettivi appartamenti, negozianti costretti a chiudere le proprie attività dopo l'evacuazione ad opera di vigili del fuoco e protezione civile dell'edificio al civico 18 di via Orsi nel quartiere napoletano della Renella. A determinare lo sgombero delle lesioni nelle pareti comparsi al quinto e al sesto piano del palazzo forse provocate da un cedimento strutturale dovuto a lavori abusivi realizzati all'ultimo piano, il settimo. Lo sgombero è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri dopo segnalazione degli stessi inquilini. Poi questa mattina per i negozianti la diffida per motivi di sicurezza a rialzare le saracinesche. Abbiamo fatto una diffida che non possiamo aprire. Motivo, motivazione? Stanno venendo magistrati e tutto, quindi appena sappiamo qualcosa di utile valuteremo. Per ora abbiamo solo firmato una diffida, non si sa di quanto tempo, non si sa per quanti giorni. Tutti i negozi sulla strada? A maggior parte sì, partiamo dalla pasticceria a scendere. È una diffida da aprire perché il palazzo è pericolante. Basta, niente proprio ci hanno detto. Allora, io ieri pomeriggio era aperta e ho assistito al fatto che sono arrivati i vigili del fuoco. Questa confusione c'è dalle 5 di ieri pomeriggio. Hanno fatto scendere le persone dal palazzo, hanno detto che era una sola verticale. Sono passata ieri, tardi, 11 e mezza, mezzanotte, c'era ancora tutta la confusione delle persone in mezza la strada. E poi stamattina hanno detto che non possiamo aprire. Pensavo almeno di trovare, che ne so, messo un pochettino, insomma, tipo tubi innocenti in protezione, il palazzo, queste cose così, invece niente. Per il momento non hanno fatto niente. Ma hanno dato questo verbale e basta? Questo verbale e basta. Non sappiamo né cosa dobbiamo fare, né per quanto tempo dobbiamo stare chiusi. Niente proprio. Abbiamo avuto questa soppressa stamattina. Al lavoro per trovare un'abitazione alternativa alle famiglie e alla protezione civile del Comune di Napoli, che non esclude una chiusura totale della strada, importante arteria per il traffico in zona. Le lesioni potrebbero essere state causate da un cedimento strutturale dovuto, stando ai primi rilevi statici, a lavori di restauro all'interno del palazzo.